Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto e agli aggiornamenti. Dobbiamo parlare di un altro femminicidio avvenuto a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. La vittima è una giovane mamma di soli 21 anni, è stata uccisa a colpi di pistola nella sua casa a Valdimolino. A scoprire il corpo una volta rientrato a casa è stato il marito che ha chiamato i carabinieri. Secondo testimonianze raccolte sul posto sarebbe stato visto uscire di casa un uomo diverso dal marito, un uomo che poi si sarebbe dileguato a bordo di un'automobile scura. I carabinieri ovviamente stanno indagando, sono in corso dunque tutte le indagini su questo caso. Si tratta del secondo femminicidio in cinque giorni dopo quello avvenuto sempre in provincia di Vicenza a 90 Vicentina. Lunedì in Veneto arriva il generale Figliuolo e sarà il 20, il giorno di esordio per la terza dose del vaccino. I primi a sottoporsi alle iniezioni sono stati individuati tra i soggetti fragili. Entro la fine del mese è prevista la terza dose per immunodepressi, persone che hanno avuto un trapianto e pazienti oncologici. Subito dopo sarà la volta degli over 80 dei pazienti delle case di riposo e dei sanitari. Questi pazienti saranno messi in lista attraverso i canali di cura. Per tutti gli altri cittadini la terza dose è prevista dopo sei mesi dalla seconda. Intanto a poco tempo dalla ripresa delle aperture delle aule degli asili ci sono già le prime classi in quarantena. Succede a Padova, a Chiesa Nuova e alla Mandria. Dunque ancora classi in quarantena e chiaramente molta preoccupazione che è stata espressa anche dall'assessore Piva che rileva ancora molte criticità ad ammalarsi dunque anche bimbi molto piccoli degli asili nido. La DIA di Trieste ha eseguito un'operazione importantissima tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Numerosi commercianti erano costretti a subire minacce, estorsioni e ricatti con il metodo mafioso. Sentite. Estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di numerosi commercianti ambulanti di Veneto e Friuli. Queste le accuse nei confronti di numerose persone arrestate questa mattina da personale della Direzione Investigativa Antimafia e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste. L'attività investigativa coordinata dalla DIA di Trieste ha fatto emergere un quadro molto grave e preoccupante. Le vittime dell'organizzazione venivano minacciate, in particolare sarebbero stati accertati episodi nei quali gli ambulanti venivano costretti a non esercitare la propria attività imprenditoriale in una nota manifestazione fioristica a Bibione. Sono state organizzate spedizioni punitive con armi nei confronti di chi non sottostava l'egemonia imposta dal capo del gruppo criminale, anche in altre manifestazioni fieristiche del litorale friulano Veneto. Otto degli arrestati provengono dalla Campania, tra i nomi spicca quello di un insospettabile, ovvero il presidente Ascom di Bibione Giuseppe Morsanuto. Perquisizioni sono state effettuate con l'ausilio di uomini e donne dei reparti territoriali della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché dai militari dell'ottavo reggimento Genio Guastatori di Legnago, presso i luoghi nella disponibilità delle persone indagate nelle province di Udine, Venezia e Pordenone. Abbiamo adesso una notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio, alle 16 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pallada a Mira nel naviglio del Brenta, dunque siamo in provincia di Venezia per la ricerca di una persona caduta in acqua da un'imbarcazione purtroppo rinvenuta senza vita. L'uomo, come riferito da testimoni oculari, è stato visto cadere da un'imbarcazione e scomparire sott'acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti da Mira con un gommone, da Venezia con l'elicottero, con a bordo due sub e successivamente da Vicenza con il nucleo sommozzatori che hanno iniziato le ricerche. I sommozzatori dopo circa mezz'ora hanno ritrovato il corpo senza vita dell'uomo che è stato subito messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto i carabinieri e il personale sanitario del suo, è chiaramente una vicenda tutta da ricostruire. Vicinanza a Walter Onichini viene espressa da più parti. Il commerciante da lunedì è rinchiuso nel carcere maschile di Venezia dove dovrà scontare cinque anni in seguito alla condanna per il tentato omicidio di un ladro che era entrato nella sua abitazione con altri complici per mettere a segno un colpo. Sabato sera si terrà un flash mob che è già stato annunciato all'esterno del penitenziario poco dopo le 20 per dimostrare vicinanza all'uomo, alla sua famiglia ma anche per chiedere attenzione su un caso che l'opinione comune non condivide. Tutti i partiti politici sono concordi nel chiedere al governo di intervenire per il taglio delle bollette che secondo il ministro Cingolani rischiano di crescere della 40%. Altri paesi europei con lo stesso problema hanno già provveduto con interventi mirati e ora i cittadini si augurano che lo stesso possa avvenire in Italia. In un momento come quello che stiamo vivendo non sarebbe tollerabile un salasso così elevato per famiglie e imprese. Un uomo di 77 anni, Romeo Callegaro, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto a Trebaseleghe in provincia di Padova. L'uomo è stato investito da un'automobile che non è riuscita ad evitare l'impatto. L'incidente è avvenuto in via Cancelleria di Sant'Ambrogio di Trebaseleghe. La gravità del sinistro è stata visibile nell'immediato. Sul posto è arrivato il 118 ma i sanitari non hanno potuto fare nulla. Presente la polizia stradale. Gli agenti hanno eseguito tutti i rilievi per comprendere la dinamica. Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori anche nel privato. La linea intrapresa dal Premier Draghi non si ferma. Il governo Draghi prosegue con il Green Pass e l'estensione dell'obbligatorietà anche nelle aziende private. Sono ore di dialogo e strategie per trovare un'intesa comune che renda obbligatorio il vaccino per tutti i lavoratori. Allo studio anche eventuali conseguenze per titolari e lavoratori. In questi giorni è nata una diatriba perché molti partiti non condividono questa scelta ma il Premier sta procedendo ad oltranza. Domani il decreto sarà discusso in Consiglio dei Ministri. Continuano le indagini sulla morte di Rita Amenze uccisa dal marito davanti all'azienda di 90 Vicentina dove la donna lavorava. Ieri i carabinieri hanno recuperato la pistola usata da Pierangelo Pellizzari per uccidere la moglie. L'arma era stata nascosta in un pollaio. È stato ritrovato anche un contenitore con numerosi colpi dello stesso calibro di quelli sparati. Il luogo dove si trovava la pistola sarebbe stato indicato da Pellizzari. è stato arrestato domenica mattina dal personale delle volanti per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie cittadina italiana un uomo algerino di 51 anni che era già gravato da provvedimenti di allontanamento sia dalla donna che dai figli. Il 14 maggio scorso l'ex moglie aveva formalizzato una denuncia nei suoi confronti per atti persecutori e per violazione dei provvedimenti che l'uomo aveva violato in varie occasioni tentando di avvicinarla. Domenica mattina quando si è trovata di fronte l'ex marito sul pianerottolo della propria abitazione con fare alterato e violento nei suoi confronti la donna ha chiamato il 113. La volante è intervenuta immediatamente. I poliziotti hanno bloccato l'uomo in fuga nei pressi dell'area condominiale dove tentava di nascondersi. L'autorità giudiziaria ne aveva disposto a seguito dell'arresto l'accompagnamento presso la casa circondariale di Padova da dove è uscito ieri ed essendo risultato irregolare sul territorio nazionale è stato sottoposto a decreto di espulsione del prefetto che è stato eseguito questa mattina presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Milano. Cantieri e ritardi in autostrada arriva il cashback ne abbiamo sentito parlare in questi giorni sentiamo cos'è. I cantieri autostradali rendono la vita degli utenti delle autostrade molto difficili ci sono punti nei quali il traffico può tenere fermi mezzi per ore e ore con tutti i disagi che ne conseguono. ore di estenuanti attese ritardi ai luoghi prefissati rinvidi appuntamenti e tanto altro insomma un danno per chi si trova a transitare in uno di questi punti. Adesso arriva il cashback dei pedaggi ovvero un rimborso del biglietto pagato a seconda della quantità di ritardo accumulato. Per ottenere il rimborso bisognerà scaricare sul telefono un'app. L'iniziativa al via per la prima volta in Italia in queste ore i rimborsi effettivi partiranno da gennaio. Al momento sarà in vigore solo sulla rete Aspi. Controlli sul reddito di cittadinanza. Altre 18 denunce sono scattate in seguito a controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di mestre. Sono tutti stranieri, quasi tutti hanno hanno mentito dichiarando di essere residenti in Italia da oltre dieci anni. Altre 17 persone erano state pizzicate qualche mese fa. I denunciati dovranno restituire le somme percepite e inoltre dovranno rispondere anche penalmente. Da notare che la violazione oltre alla denuncia penale comporta anche la segnalazione all'Inps. Sta continuando la scia di polemiche dopo la scoperta che una farmacia della provincia di Padova faceva pagare 4 euro la stampa del Green Pass. Lo Stato prevede che questo servizio per i cittadini sia gratuito ma la farmacia in questione invece si faceva pagare ed emetteva lo scontrino. La procura di Padova ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia di un cittadino. La farmacia dal canto suo attraverso le pagine dei quotidiani si difende affermando che i costi in termini di tempo e di materiale ci sono. A Padova ha arrestato un cittadino nigeriano nel corso di uno sfratto. La volante era intervenuta per fornire supporto all'ufficiale giudiziario che era in difficoltà poiché la coppia di cittadini stranieri illegittimamente presenti dentro l'abitazione stava assumendo una condotta poco collaborativa. Alla vista degli agenti però l'uomo è andato completamente su tutte le furie, visibilmente agitato, ha iniziato a inveire nei loro confronti e contro la moglie scagliando contro gli operatori anche un tavolo. Sul posto sono arrivati altri agenti di polizia. L'uomo è stato arrestato per i reati di resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali ai danni degli agenti. Questa mattina si è svolto il rito per direttissima, il procedimento penale è stato rinviato concedendo i termini a difesa. E adesso cambiamo argomento, facciamo un viaggio assieme ad Emanuele e compagno, saliamo a bordo dell'elicottero per sorvolare l'area del Delta del Po. Per angoli da scoprire in Veneto siamo venuti con Telecittà ad ammirare il Delta del Po Veneto e le valli del Polesine. Per fare questo siamo saliti ancora una volta a bordo di un aereo per scrutare dall'alto la bellezza di queste terre. Per raggiungere questa zona umida così unica abbiamo seguito il corso del fiume Po che ha creato proprio questo spettacolo della natura. È il poi infatti che depositando ingenti quantità di sedimenti provenienti da tutto il suo estesissimo bacino idrografico ha, nel corso dei secoli, originato nuovi terreni alluvionali. Questi sono stati ben presto messi a cultura dando vita alle cosiddette nuove terre. Il Delta, come lo vediamo oggi, è perciò il frutto sia dell'azione costruttrice del grande fiume sia dell'erosione delle acque dell'Adriatico ma anche della mano dell'uomo. Dopo mezz'ora di volo abbandoniamo il contesto agricolo per sorvolare un intricato dedalo di canali e laghi, le valli. L'attività valliva non è cosa recente. Essa risulta praticata probabilmente già in età tardo-medioevale. È però solo nel 1705 che le valli, come le intendiamo oggi, diventano realtà. La proprietà è da sempre stata nobiliare. Il senato della Repubblica di Venezia vendeva ai cittadini più abbienti tali nuovi terreni al fine di ottenere rapidi introiti e di estendere la propria influenza a discapito degli estensi. A causa della subsidenza le valli si trovano oggi al di sotto del livello medio del mare e devono la loro spettacolare fisionomia primariamente alla sapiente mano dell'uomo che le ha modellate, implementando la produttività delle attività tradizionali quali l'itticoltura e la pratica venatoria. La straordinaria biodiversità che il delta polesano può vantare è per lo più merito della costante e oculata gestione operata dai vallicoltori che sono stati in grado di assecondare nel tempo le esigenze delle specie ittiche e avi faunistiche seguendo informazioni empiriche tramandate oralmente. Numerosissime sono le specie di uccelli che stazionano qui stabilmente o temporaneamente durante le rotte migratorie, molte delle quali rare o in via di estinzione. Le valli polesane vantano per esempio il maggior numero di fenicotteri rosa di tutta la costa dell'Alto Adriatico con quasi 7.000 esemplari registrati nel 2020, eccoli sotto di noi, fermi sull'acqua o in volo. Il futuro di queste speciali realtà è per lo più incerto, urge individuare un nuovo compromesso tra le esigenze economiche, sociali e di tutela della natura, così da garantire la continuità della fondamentale gestione attiva che le hanno rese uniche. Ed ora uno sguardo alle condizioni climatiche, previsto un peggioramento a partire dalle prossime ore sul Veneto, tra le ore centrali di giovedì e le prime ore di venerdì, tempo a tratti instabile perturbato con precipitazioni da sparse a diffuse specie sulle zone centro-settentrionali, anche a carattere di rovescio o temporale, possibili anche locali fenomeni intensi, in particolare vengono segnalati forti rovesci. È tutto per questa edizione, ringrazio tutti voi per l'attenzione, vi auguro una buona serata e vi invito a rimanere sulla nostra rete televisiva. Arrivederci.